Ciao ragazzi, benvenuti a Juventus-Bologna. Che la farà la Juventus, dove avrebbe perso addirittura Monza a battere Bologna? Bella domanda. Speriamo almeno con Bologna di farlo una bella figura, sia qua che domenica, nella partita reale. Magari la fai qua la bella figura. Non vomitare, però domenica sarà domenica. Va bene, partiamo. Noi invece dobbiamo cercare di fare giocare bene il Bologna, che così magari riusciamo a farlo vincere anche nel mondo reale. Nel mondo reale. Sì, diciamo all'Ale Stedium e spugnare. Vindate in Serie B e vinte a giocare con il Parma. Esatto. Partito, un bel sole e un bel Bologna speriamo. Grazie Dura ma ci si prova. Perché contro la Juve di quest'anno tutto è possibile. Bologna che come vedete giochicchia un po' troppo. Un po' gagliardo questo Bologna. Senta dei coi allegri auto io. E' un po' che contro stazione sulle spalle. E' Bologna che sta già facendo dei sombreo a manetta. Cercando di miniorvocire la Juve. Ma poi si ritrova con la sua tecnica a buttarla in fallo laterale. Bologna è chiuso a cercare di contenere l'Arabia Juventus. Ma il Bologna che gioca di prima. Ah che troia. Cos'era uno stop di Vlaovic quello lì? Vlaovic è anche mio che ho proprio. Ah ecco. Era il suo degno emulatore. Vagà quando va? Fede. Fede! Venga Fede. Si mette lì. Si mette tutto. Tu non vado per le pietra. Non puoi dire che era il tuo bo. Fede! Venga che lavoro. Qual è il tuo? Anzi non potevate farci nulla. Perché? Perché qua ha partito un treno. Fede che? Dove potrà, dove potrà, niente. Poi si mette a posto il palloncino. Neanche una botta. Sta lì. 1-0. No ragazzi fighe dai. Non facciamo una disfatta però. Oppure perdete nel mondo virtuale per poi vincere quello reale. Il solito un genio è stato lontano per lo risultato. Quindi questo è un buono spiccio. Porca puttana. Porca Marabella. Risposta del Bologna. Qua possiamo podare un po' ragazzi. Porca Marabella. Apri schemi un foglio. C'è la solizzanza. Porca Marabella. Dai che va bene. Arnaldi c'è di solo però. In la linea un attimo. Ecco. Bravo. È fallo di Arnautovic. Cioè no. No scusa su Arnautovic. Poi lo voglio dire. Guarda che roba. Bologna che ci prova ma scarsissimo. Loputa. In aria. Tieni agio. No. Con tutte le forze Bologna cerca di mangiarsi a falli e aiutenti. Dove è? Facile facile. Scrappi. Che buono faccia. Cos'è quella roba lì? Uno. Bravissimo. Bravo. Riparte Silvestri. Musa. Dieci. Musa Baro. Vai lì. Bella Musa. No. Sbaglia tutto. No ragazzi no. Hai fatto una cosa bellissima. Il Musa si può. Ma come si fa a sbagliare così? F***a lì Musa che si fa tutto il campo. Arriva lì. Tu dimentica Musa. Con un fagiolo in trinare. Secondo me dovrà fare tutto da solo. A quel punto lì. E in trinare proprio di tutto per tutto. Sì sì. Hai sbagliato Musa. Devi essere più egoista. Siamo uno dei più buoni. Vaca. Musa. Cos'è? Fallaccio. Ma cos'è? Cos'è? I fantasmi. Saranno i fantasmi. Musa. Vuoi vedere cosa c'è? Una pallata. Una pallata di Ken. Che è scio. Non è che è McKennie. Non è che è McKennie. Non dice un nome. Ebbene ovvio sono uguali. E' sotto. Bene. Dai. Musa Barrow. Ottimo. Vieni. Bene vado. Sono Barrow. Ancora io. Sono Barrow. Non schifo. Controlla male. Jack Barrow. Vai in testa. Mi va che fu schifo. Eh adesso sì. Andai indietro perché ti cura. E' troppo veloce. Mi fanno staccare un po'. Un po' di lob. Dai. Va perché ti frega. T'ho detto. Eh va che la dai lui. Si è molto difficile. Vabbè. Entra ragazzi questo Bologna. Purtroppo di shot non ne potrà avere molto in tutta la partita. Però. Ci deve comunque provare. Beccato un gol a freddo che va tagliato un po' le gambe. Però i coglioni ce li abbiamo. Siamo il Bologna. Musa. Musa. Questo è un po' che diceva Musa. Dai ragazzi pressateli. Che la perdono a primo po'. Cos'è quello schifo? Niente. E' solo due. Finito. Ehi. 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 Addio. Maga. E' la rabbia. Eh va bene ragazzi. Allora queste sono le ingenuità che non le puoi fare. Non puoi. Guardate che ingenuità difensiva. Perde un pallone sanguinoso. Con un controllo orrendo. E poi ovvio che la Juve ti deve castigare. Ragazzi c'è poco da fare. Se fate che quelle cappelle lì. Eh niente. Demoralizzato il Bologna. Va bene ragazzi. Provateci ancora Alessi. Tanto è il trentesimo. Potete ancora giocare. Potete ancora beccarne quattro. Come potete anche pareggiare la partita. Nel mondo di sogno ovviamente. Un golletto potrebbe cambiare tutto. Non lo so. Ma cosa ho visto? Ma hai fatto fallo o è fuori gioco? Sarà fallo tuo? No. Si. Che cazzo hai visto? E fai i lacci terribili. Ma che cazzo vuoi? Quello schifo di sfiga. Mi rimpalla anche lì. Mamma mia che sfiga. E' un gollo schifo. Stati giocando da merda. Oh guarda che schifo. Non passiamo alla metà campo. Vi inguardabili. Voglio vedere un po' più di cuore. Se è possibile. No è possibile o no? No ve lo chiedo. Un po' più di cuore? No eh. Per i vostri tifosi. Ottimo. Un'illusione ottica di inserla davanti alla porta. Ho avuto. Si si. Si perché la volevo andare lì. E no se è ilzata. Sembrava. Non dice niente. Dai là. Cos'è? Un treno? Ottimo. Un po' più di scala. Un po' più di scala. Un po' più di scala. Va bene? Dai un po' calmi però. Cosa volete fare così? Con un tocco di prima? Va che che roba però qua. va bene? Un po' più di scala. Un po' più di scala. In quell'area lì. No eh. No. Non ci vede. Ma vai no. Niente. Eh va che basta. Figa dai. Subitanza. Va vai. Può di come un matto. Ecco un matto. Non ho fatto neanche un rosso fino adesso. Un po' più di scala. Cos'è? Oh i gioco. Un po' più di un millimetro. Bene. Che due. Beh non baciare. Figa dai. Un altro video. Va che si fa saltare in testa ancora. Dai. Non riesce a fare un cazzo. Come mi state piacendo ragazzi. Non riesce a fare mezz'azione. Noi vogliamo giocare in attacco. Siamo mica la Giulia Allegri. Sì va vero. Figa arriva già l'altro. Figa l'avevo già saltato prima. Già lì. Lo stronzo lì. Marissimo. Eh va vero ragazzi. Comunque bella cazzata eh. Il 2-0 è veramente una bella cazzata. Figa il processo nostro. Tira di un cazzo. Però veramente. Il 2-0 è stato veramente una tegola terribile. 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 E' tipo il controllo quello lì. È stato. E' il torno no? Dai va giù va. Questo qua c'è un fisico incredibile. Andiamo a munirlo però. Un po' che sbracciatina di Arnaldi. Sembra Ibrahimovic dei poveri. Che lavoro boh. Che lavoro. Ravissimo. Eh ho capito tutto eh. Capita. Eh boh. E va che non va niente. Cioè vai il fisico ma non vai veramente niente. Come le uscita massime. E va che credi mi la ricuperà lui. Ma non si può vedere a queste cose eh. Ma chi? Va bene. No ragazzi non siamo compati. Siamo top isolati. E va che me fai che me fallo a casa mia quella roba lì. Vigia. Ah vacca. Vigia che rimpalli Juve. E non siamo alti. Siamo troppo lenti. Ma fallo lì. No. Eh sì. È già lì. Oh vacca. Troppo veloci ragazzi. Sono troppo veloci. Non possiamo nulla. Ma vacca non di filtra mezzo. Dai che di culo. Fuori giocchio. Fuori giocchio. Mamma mia. Mamma mia. È al di là. Ma ne vinciamo mezzo di rimpallo o no? Guarda niente. Non ne vinco uno. Lo sfonda in aria. Ma che è? Ma che è? È fuori gioco. È del calcio di rigore. Ma che calcio di rigore. Sarà del... Fallo di prima di quando è iniziato il preistoria. Ecco. Ma questo... Ma che che fallo è? Con la schiena all'ostacola. Ma vacca. Scouten. Scouten. Mamma mia. Fallettino ridicolo. Mamma mia. Ma che vuole? Tranquillo. Era una luffa sì. Un treno. Ah che bella finita che gli fa. Niente. Dopo lento. Giocano bene ma la velocità non c'è. Niente. Anche qua non c'è. Di popolo non c'è. Si immole no. Ma dai ma è avuto un pallo. Ma è avuto un intervento tentando di recuperare il pallone. Ma no che mi fallo questo qua. Sì. Ma guarda. Che la cabiglia. Palla già andata. Che schifo. Bravo di prima. Guarda che lob. Perché che f***e va con un treno quella gente lì. Niente ragazzi sono troppo inferiori. Purtroppo mi spiace amici del Bologna ma. Mi sa che perderete all'Allianz. E Allegra era una delle poche gioie di quest'anno. Un attrattiene dai. Ottimo. Era in affanno. Ha deciso di spezzare il ritmo. Dai Vigan. Ma sei baro? Chi sei? Bello sta. Bisù. Guarda che devo tirare 30 km e la palla la prende anche. Ottimo. È un rivino. Devo dire che fa degli rivi. Bellissimo per portare lì. Ottimo. E se me ne da regalo in coronata magari. E' un massacro per vendicarsi del fatto che stati vincendo 2-0 ma senza gol e trattanti. Di cui uno l'abbiamo fatto a noi purtroppo è il 2-0 che ci ha chiuso l'incontro. Quello è che è vero che non riusciamo a fare niente. Ok. E allora è vero. Musa vai. Il villaggio è bellissimo. Vuoi fare qualcosa? E qua che non fa niente. No. E va bella cazzo. Se la riuscivo a controllare. E qua che è incredibile. Guarda c'è il portiere. Che rossolini. E qua che roba. Se la prendevo tiravo da lì. Che bello che è restato. Bravo. È restato veramente bravo. Però figa. Non puoi mica far tutto tu. Block. Di primo non riesco a prenderci un davanti. Cosa c'è? Ah. Fallo su di me. Le giro. Faccio il furbo anche. Mi va. Mamma mia. Che figa zai. Le giro. Che triangolo ho messo dalla luce. Numere. Eh va bella. Da solo che cazzo. Lo divento Maradona. Su. Non c'è arrivato. Cos'è sto schifo dai. Mettiamo la palla a terra. Che noi siamo il Bologna. Siamo tecnici. Ma che bella palla. Nove. Che dormita. Svegnati. Che è un autovic. Eri nel mondo di questo un autovic. Oh del portiere. Meno fai qualcosa. Vai davanti. Vaca. Stavo andando con un buon treno di là. Vaca. Che schifo è. Vaca c'è andato lui. Guardi lui. Che imbucata. Niente. Non cazzo va. Non va abbastanza ragazzi. Non possiamo farci. Niente amici bolognesi. Ci vogliono dei miracoli per riuscire a segnare. Niente. E vaca. Comunque ragazzi. La vostra partita l'avete fatta. Avete comminato quasi niente ma. Vaca che schifo. Sta in campo. Tocca la. E vaca. Ragazzi siamo all'88. Praticamente finita. Ultimo spazio di gioia. Niente. Neanche quello. L'ultimo spazio di Bologna. con un bel numero di Bologna. Finalmente in evidenza. Ma neanche questo ragazzi. E' stata rimpallata anche questo. Ultimo calcio d'angolo. Niente. Con il cuore. E' un'appellazione che c'è finita. E' addirittura fuori gioco. E' un'applaudio che è fuori gioco. Non è finita partita. E' un'applaudio. E' un ragazzo che lo vedi. E' vabbè. Grazie. Ragazzi. E' vabbè. La Juventus va a vincere. La Juventus va a vincere.